A sei mesi dal lancio di Osservatorio Abruzzo, progetto nato da una partnership tra OpenPolice e di Pubblica Fondazione Abruzzo, Gran Sasso Science Institute e Starting Up, sono stati presentati i primi risultati del lavoro svolto, dati che sono al servizio della crescita dei territori. AbruzzoOpenPolice.it infatti è il primo osservatorio territoriale nato per indagare le dinamiche socio-economiche in Abruzzo. Se ne è parlato in un confronto al Gran Sasso Science Institute, esiste anche OpenPNRR, che è la prima piattaforma italiana libera e gratuita di monitoraggio del PNRR, che è anche un monitoraggio personalizzato relativo all'Abruzzo. E' rappresente il commissario Sisma 2016 Giovanni Legnini, che di recente ha lanciato un appello alle aziende ad occuparsi più di ricostruzione che di super bonus. Ma è una giornata importante perché si vanno ad approvare anche 11 bandi PNRR del fondo complementare a sostegno delle imprese. Io penso che il 110% sia stato un'ottima misura, ma i problemi che si pongono sono noti, stranoti a tutti. E quindi mi auguro che quella tendenza a occuparsi più del 110% che della ricostruzione, creando problema alla ricostruzione, si inverta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Già ci sono segnali in questa direzione. Proviamo 11 bandi per le imprese, alcuni anche per gli enti locali, le comunità energetiche, le misure di partenariato pubblico-privato, ma il grosso delle risorse, 700 milioni di euro circa, sono destinate allo sviluppo delle imprese, dei due crateri dell'Apennino centrale. E sempre a proposito di PNRR, due poli di innovazione sorgeranno all'Aquila, all'Arestromoli, nell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio, grazie a due progetti presentati da Università e Gran Sasso Science Institute. Il primo a Colle Maggio è quello del Gran Sasso Science Institute per 19 milioni, che si occuperà di ricerca applicata e sviluppo tecnologico. Il secondo dell'Ateneo per 17,5 milioni di euro all'Arestromoli, polo di innovazione che sorgerà con la scuola di alta formazione riservata alla pubblica amministrazione, con altri 20 milioni. Sono gli unici due progetti ad essere stati ritenuti ammissibili in Abruzzo. Per noi questo è un segno anche di cominciare a destinare quell'area di Colle Maggio, che è un'area straordinaria, vicino a una delle viste più belle d'Italia, che è quella della Basilica, destinarla ai giovani nel segno dell'innovazione tecnologica e della possibile attività futura nel campo di una nuova imprenditorialità. Grazie.